ciao oggi siamo andati a vedere delle case abbiamo giocato un po' tutto bene siamo andati fuori a quella parte no, vabbè non so dove però qua da questa parte era pieno di pelle dita ecco l'ho detto mamma mia erano state cinquanta mamma mia proprio si diceva questo è il nesquick e dicevo non bastano per noi buongiorno poi siamo andati a vedere delle case dove c'era una perfetta c'è la stanza del basement poi si gira si gira e c'è lì subito il bagno che è la mia figlia bellissimo quindi uno spallino di pezzo gli scappa la pipì gira da quella parte non deve salire scendere e così è bello possiamo infatti non lo sapete cosa è successo ho dato non indorinerete mai un ossa così mamma mia mi ha fatto mi ha fatto di ciao ciao c'è che queste ossa che abbiamo trovato non ci sono dici unghiale o dici unghiale o caporella mi ha fatto fossili 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 dinosauro ossa di rinnovano che erano osse così dinosauro di rinnovano che ha dipendere di chi abbiamo visto due aironi uno ci è stato tantissimo un falco non ci sono una schierta così tanto che ci sono venuti a noia paperelli che facevano in bagno un serpente morto ci sono così salito meno male che non lo avvivo se ci salivo non lo avviva molto eh mi scappa la vibra di me poi siamo andati a casa abbiamo visto un po' di piccoli flori e ciao ciao ciao